Quest'oggi vi parlo di una santa che mi resta sempre molto perplesso. A volte il santo non lo trovi soltanto sui libri, non lo trovi soltanto sul calendario, magari lo trovi anche andando a visitare una chiesa in cui è custodita la reliquia di quel santo. Non dobbiamo correre dietro le reliquie, non è questo il senso, come se fosse anche qua qualcosa relegato alla scaramanzia, alla fortuna, se ho la reliquia di quel santo allora ho il portafortuna, non è quella roba lì della reliquia. La reliquia è una testimonianza della santità effettiva, della devozione verso un santo che può essere appunto l'occasione per pregare un santo perché interceda presso Dio. Non è certo il santo che fa il miracolo o che sforna come se fossero delle merendine la grazia che ti serve, non è così che funziona. Su Santa Caterina da Bologna il primo approccio che ho avuto con questa santa è stata proprio nella chiesa, vedendo nella chiesa delle Clarisse dove ho conosciuto questa santa, l'ho proprio conosciuta, cioè l'ho proprio vista. E sì perché Santa Caterina da Bologna si fa vedere. È una santa che non sta sotto terra, non sta dietro le lapide di una tomba, ma si fa vedere. Ecco Santa Caterina da Bologna, la sua salma incorrotta dal 1463 fino ad oggi. Questa santa mi ha incuriosito perché è una santa seduta, la sua salma è seduta su questo seggiolone su cui è stata messa lì dal 1463 fino ad oggi. È lì seduta che ti guarda e che ti aspetta, ti aspetta perché tu passi a salutarla, perché tu passi a pregare con lei il Signore. Santa Caterina da Bologna è tra quelle sante meta di grandi pellegrinaggi. Nella sua vita non ha cose speciali che non abbiamo già detto di altre. Una vita di uno nobile, ferrarese, damigella alla corte dei duchi, che a un certo punto rifiuta la vita frivola e mondana, lussuosa o lussuriosa del suo tempo per darsi totalmente a Cristo nella congregazione delle clarisse e dentro quella vita porta la sua allegria. Eh sì, perché lei era una cortigiana, una vita di corte, ma aveva una grande predisposizione per l'arte, per la musica, per il canto. Era una ragazza vivace e questo lo porta anche all'interno della sua congregazione, dando vita davvero a una vita comunitaria, una vita monastica molto bella, dove le suore godevano proprio della presenza di questa loro consorella. E così godono anche adesso della stessa presenza lì, perché da questa santità arrivano tante grazie davvero presso i bolognesi che hanno la fortuna di avere, anzi forse la provvidenza, di avere questa santa nella loro città. Ci rifacciamo a Santa Caterina e chiediamo a lei tante grazie da chiedere presso Dio Padre per il nostro cammino anche di questa Quaresima. Buona giornata! Grazie a tutti!